Le strisce blu di Milazzo non hanno più un gestore. La cooperativa Obiettivo Salute e Lavoro ha infatti lasciato la gestione degli stalli a pagamento che quindi diventano nuovamente parcheggi liberi. La cooperativa ha sciolto quindi ogni riserva e per mezzo del suo responsabile Ciccio D'Amico ha inviato una lettera al sindaco Giovanni Formica allo scopo di spiegare i motivi della rinuncia. Diverse le contestazioni mosse dall'ormai ex gestore della sosta a pagamento. Tra queste la mancata stipula del contratto, il mancato riscontro alla richiesta di installazione dei parchimetri e l'illegittima determinazione del prezzo a base d'asta dell'appalto. Con queste motivazioni la cooperativa ha riconsegnato le aree al comune riservandosi di richiedere successivamente a titolo di rimborso tutti quei costi che saranno sopportati in ragione di quanto preteso dai lavoratori assunti a seguito della consegna provvisoria del servizio. Dal canto suo il primo cittadino Giovanni Formica, ricevuta la lettera, ha considerato del tutto illegittima, oltre che inaccettabile, la decisione della cooperativa e ha annunciato un'iniziativa giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti e subendi. Secondo il sindaco non può il concessionario assumere a pretesto la mancata sottoscrizione del contratto, nonostante l'amministrazione abbia dato piena disponibilità alla formalizzazione immediata, giacché il rapporto ha avuto esecuzione per oltre sei mesi.